Questi discount hanno avuto la furbizia, secondo me, di conquistare terreno nei confronti dei supermercati tradizionali con questa trovata del pane sfornato lì sul punto vendita. Quindi noi troviamo nei discount sempre delle diciture in grande sia all'esterno del supermercato sia all'interno nel reparto, diciture tipo sforniamo pane tutto il giorno oppure pane appena sfornato, addirittura alcuni azzardano scrivendo pan del D. Quindi tutte queste diciture evocano nel consumatore comunque l'idea che ci sia il pane fresco di giornata appena arrivato, appena sfornato caldo. In realtà questi discount utilizzano delle pagnotte precotte e congelate che arrivano quasi sempre dall'estero innanzitutto, anche dall'Italia, ma soprattutto dall'estero Spagna, Germania, Slovenia e Romania sostanzialmente, dà dei panifici industriali che preparano le pagnotte, le precuociono, poi le congelano. Questo preparato può conservarsi fino a due anni di vita e poi viene distribuito in tutti questi punti vendita e viene dorato completamente all'interno del punto vendita. Quindi con un forno elettrico viene ultimata la cottura. Ma se ci facciamo caso non troveremo mai assieme a questi prodotti la dicitura pane fresco. E' vero che è pane sfornato, è vero che è pane caldo, pane del giorno, ma mai la dicitura pane fresco, perché la legge vieta di etichettare come pane fresco qualsiasi preparato che sia stato anche parzialmente già cotto in un altro punto vendita e quindi in sostanza non si tratta di pane fresco, anche se agli occhi del consumatore, ripeto, suscita un po' quest'idea. Però è una genialata a livello di marketing perché comunque loro cucinando il pane nel punto vendita, gli aromi, i profumi comunque danno una sensazione di benessere, di cibo sano comunque al consumatore e quindi le vendite sono senz'altro importanti da questo punto di vista. E appunto la differenza con i supermercati tradizionali, forse direi l'unica differenza a livello qualitativo, a livello di gamma di prodotti, è proprio su questo settore dei panificati. Perché i supermercati tradizionali, quelli grandi diciamo tradizionali italiani, hanno sia il pane precotto e congelato in vendita, sia però il pane fresco tutti i giorni. Quindi cosa vuol dire? Il pane fresco che arriva dal panificio o dal forno locale. Mentre i discount hanno solamente la tipologia di pane precotto e congelato. Questo è importante da sapere. E soprattutto poi riguardo questi precotti e congelati, sono stati fatti analizzare da alcune associazioni di consumatori anche in Italia, in laboratorio. Si è visto che comunque questi preparati hanno comunque dei importanti residui di pesticidi, quindi comunque arrivano da coltivazioni non di altissima qualità. Inoltre hanno trovato dei metalli pesanti, residui di metalli pesanti e soprattutto hanno trovato anche parecchi conservanti all'interno di queste pagnotte precongelate. Anche perché, come ti dicevo prima, possono durare fino a due anni. Quindi in teoria potremmo anche mangiare a volte del pane che è stato impastato 5, 6 mesi, 7, 10 mesi fa, quando acquistiamo questo tipo di prodotto.